Bentornati su MyFootballJersey. Continuiamo con le anticipazioni al momento non ancora ufficiale. Per la prossima stagione questa è la prima maglia del Tottenham in versione player. Grazie per la visione! La maglia mi piace molto di più di quella dell'anno scorso. La maglia del Tottenham è una maglia bianca, però questa sfumatura che c'è gli dà un tocco in più. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Come detto mi piace di più, fatemi sapere voi se siete d'accordo con me. Qui in altro trovate il costo, come al solito veramente molto basso per una maglia fatta sicuramente benissimo che arriva anche molto velocemente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale. Spero possiate regalarci un grande like e iscrivervi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.